Matteo Salvini cambia lu che passa agli occhiali da vista, lo ha ufficializzato lui stesso, il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che con un post con un selfie sui suoi social network ha pubblicato una foto con gli occhiali Buongiorno e buon lunedì amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso Occhiali da vista.Gli occhiali non sono una novità, li aveva già indossati lo scorso 16 aprile nel corso di una conferenza stampa in Senato Oggi esordio con gli occhiali. Come potete vedere perché ci sono gli ottici aperti e gli anni passano per tutti, aveva detto Tanti i commenti al tweet di oggi che ufficializza l'adozione degli occhiali Tra i primi a intervenire il collega di partito, Claudio Borghi, che lo avverte. Passaggio successivo, lenti progressi E poi i commenti di fan e detrattori, si comincia con gli occhiali poi si passa ai doloretti alle ginocchia per ritrovarsi infine a guardare i cantieri tutto in così poco tempo, scrive qualcuno C'è anche chi nota somiglianze, imitazione di Maroni perfetta, e sembri Maroni, rispettivamente i post di Massimiliano e Barbie Poi si schiera il partito di chi apprezza, esteticamente parlando, buongiorno Matteo A me piaci pure così, buongiorno e buon lunedì leader Stai benissimo con gli occhiali, Giuliano, ti sta bene gli occhiali, assicurano Giole e tanti altri Non manca chi approfitta per attaccare il leader leghista Rita apre il fuoco, per favore, è già dalla settimana scorsa che li porti e risponde alla necessità di apparire persona seria e affidabile, come quando volevi apparire medico, ma appunto, è solo apparenza Tanti tagliano corto, e chi se ne? Più cattivo Lucio, hai il cervello difettoso non gli occhi Infine tanto, con una ironia forse non voluta, data da un errore grammaticale nel testo, buongiorno Matteo con gli occhiali siamo più intellettuali Grazie